A Roma l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico per scegliere il segretario che condurrà il PD al congresso previsto in autunno. Ieri sera accordo sul nome dell'ex leader della CGL, Guglielmo Epifani, attuale presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. No all'uso politico della giustizia, ribadirlo oggi pomeriggio il PDL che sarà in piazza a Brescia. Previsto il comizio dell'ex premier Berlusconi. A Roma invece manifestazione di SEL. Tragica crisi di follia alla periferia di Milano. Un uomo di origine africana armato di piccone ha aggredito senza apparente motivo tre passanti stamane. Uno dei tre, un quarantenne, ricoverato in condizioni disperate, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Molto grave anche un 64enne fuori pericolo di vita, il terzo ferito di 21 anni. Rapinatore ucciso durante un colpo ad una gioielleria ieri sera ad Arsano, nel Napoletano. La vittima, 31 anni, con piccoli precedenti per droga, ha puntato una pistola giocattolo identica ad una vera contro il titolare dell'esercizio. Il gioielliere, provvisto di porto d'armi, ha reagito con la sua pistola, freddandolo. Recuperato ieri sera il corpo dell'ottava vittima del disastro della Jolly Nero a Genova, c'è ancora un disperso. Oggi si apre la camera ardente. Intanto l'ipotesi dell'avaria è al vaglio degli inquirenti. Sale il bilancio dell'attentato di stamane in Pakistan all'apertura dei seggi per le elezioni politiche. Dieci i morti e diversi i feriti a Caraci nell'attacco contro un candidato nazionalista. Per la sicurezza sono stati schierati 600.000 uomini, comprese le forze speciali. Il bilancio del crollo dell'edificio di Ottopiani il 24 aprile a Dhaka, in Bangladesh, è stato aggiornato a 1.084 morti. Quasi 2.500 le persone rimaste ferite nel disastro. Resta intanto in condizioni stabili. La giovane operaia è stratta viva ieri dalle macerie dopo 17 giorni.